Kameyama Nanzenji è un monastero zen di Kyoto antica residenza di campagna dell'imperatore Kameyama fu trasformata in monastero dopo che Kameyama abdicò alla fine del secolo XIII d.C. Perché? Commento perché lo stato di coscienza chiamato misticismo è tipico della spiritualità orientale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!